L'attenzione dello Stato e del Governo nei confronti della città dell'Aquila e dell'Abruzzo è sempre molto alta, testimoniata da questa visita, praticamente alla chiusura dell'anno scolastico. Abbiamo avuto prestigiose cerimonie di apertura dell'anno scolastico nel recente passato anche con il Presidente Mattarella. Devo dire, lo abbiamo riconosciuto al Signor Ministro, che con la nuova amministrazione, con il nuovo Governo c'è stato un cambio di passo nel processo di ricostruzione delle scuole post-sisma, sbloccando finanziamenti e progetti che erano fermi da troppo tempo e che si rimpallavano da un ufficio all'altro. Insieme al Sindaco Biondi abbiamo lavorato in questo senso, anche con il nuovo capo della struttura tecnica di missione, l'Avvocato Fiorentino. Abbiamo dato atto al Ministero di aver collaborato in maniera costruttiva e oggi siamo in grado di poter finalmente far partire gli appalti che concluderanno il processo di ricostruzione nei prossimi tempi. Questo è molto importante. Abbiamo qui una scuola che è uno degli esempi di ricostruzione ben fatta, in cui finalmente gli studenti tornano a vivere in una scuola sicura, moderna e attrezzata di tutto punto, a differenza di, purtroppo, quelle generazioni di studenti che una scuola vera non l'hanno vista e si sono dovuti arrangiare nei cosiddetti map. Grazie.